Si sente? Sì, vai! Ok, buonasera a tutti e a tutti, grazie a Loredana in particolare per aver organizzato questa due giorni e per avermi invitato a prendere parte alla discussione. Io provo ad aggiungere alcune considerazioni alle tante interessantissime cose che ho ascoltato e parto proprio dall'intervento che faceva poco fa Francesco Musumeci perché secondo me ha messo a fuoco in maniera molto sintetica ed efficace una cosa su cui secondo me noi dobbiamo tenere lo sguardo ben attento. A cosa mi riferisco? Mi riferisco al fatto che siamo in un tornante storico che ha messo in crisi sia le istituzioni sovranazionali della globalizzazione sia lo Stato neoliberista per come l'abbiamo conosciuto negli ultimi 40 anni. Cito per titoli perché sono state cose ampiamente dibattute in queste due giorni dalla pandemia che ha mostrato la necessità di un rilancio, di un'idea pubblica di sanità e di scuola esattamente il contrario del modello che ci descriveva Tonia Guerra durante il suo intervento sull'autonomia differenziata. La messa in discussione della globalizzazione come ha trionfato per almeno 30 anni e lo vediamo nel riattivarsi dei due fronti della Nato e dei BRICS la necessità, lo diceva molto bene Francesco Campolongo, di un intervento pubblico per gestire seriamente la transizione ecologica e la rivoluzione digitale. Credo che in questo sconvolgimento serva anche riattrezzare una prospettiva meridionalista che sia dentro questo tornante storico così intenso e così periodizzante. Uno sguardo meridionalista aggiornato e un posizionamento meridionalista che invece è più che mai necessario nel momento in cui, l'abbiamo visto con lo strategic concept della Nato, si va riarticolando e rafforzando una prospettiva euroatlantica e una nuova marginalizzazione dell'euro mediterraneo in cui continuano ad esserci stragi degli ultimi, pensiamo a quello che è successo a Melilla pochissimi giorni fa, pensiamo a quello che sta succedendo in Libia, pensiamo alle stragi del Mediterraneo e pensiamo al ruolo d'ordine che viene assegnato al gendarme turco. Quindi una ridislocazione e una ristrutturazione dell'asse nordatlantico, euroatlantico che consegna l'Europa mediterranea a un ruolo di periferia e ha molto ragione Francesco Campolongo quando ci sollecita a ragionare sul fatto che noi a differenza dei paesi dell'America Latina probabilmente stentiamo a autorappresentarci come periferia e come colonia e a fare i conti, oddio mio, a fare i conti con il carattere ansiogeno, altro che l'ecoansia, il carattere ansiogeno di Loredana è fortissimo, scherzo, cerco di stringere, e a fare i conti con l'assenza, la desertificazione, non solo quella concreta e reale, ma anche con quella, diciamo, dei soggetti intermedi che ci probabilmente fa somigliare molto più per l'assenza di una società, di soggetti intermedi, di una società civile organizzata a quello che un tempo si, diciamo, appunto, con categorie gramsciane avremmo chiamato un tipo di società orientale. In questa, diciamo, ristrutturazione globale si inserisce anche la crisi dello Stato neoliberista, pensiamo, diciamo, semplicemente a quello che sta accadendo in Italia, con analogie, secondo me, molto visibili con, diciamo, la crisi dello Stato liberale successiva alla Prima Guerra Mondiale. Pensiamo, semplicemente, a quanto la maggioranza della guerra e il governo della guerra siano distanti da un'opinione pubblica che non vuole la guerra e non vuole l'invio di armi. Allora, per la verità, diciamo, c'era anche una maggioranza parlamentare con il contrario all'ingresso dell'Italia in guerra. Oggi, purtroppo, ci troviamo in uno scenario diverso, pensiamo a quanto sia visibile la frattura fra il governo che investe in spese militari e, diciamo, un'opinione pubblica che non solo non vuole la guerra, non vuole l'invio di armi, ma pone la questione sociale e la questione ambientale. E pensiamo anche sul terreno dell'informazione che credo che non possiamo derubricare, quanto ormai, diciamo, i media mainstream, tutti, diciamo, intenti al bombardamento filoatlantico, abbiano una capacità di scarsa presa sull'opinione pubblica popolare. E in questo si inserisce anche, diciamo, una frattura nord-sud e la necessità di un nuovo meridionalismo che sappia guardare non soltanto alla questione meridionale come questione europea ed euro-mediterranea, ma anche, diciamo, alla peculiarità della questione meridionale nella storia d'Italia. Cito soltanto alcuni esempi, non ha fatto benissimo Toni appunto a dirci come l'autonomia differenziata sia, diciamo, in realtà una propaggine dello Stato neoliberista proprio nel momento in cui ripropone un modello competitivo e anche, diciamo, dei criteri di ripartizione dei fondi. Voglio semplicemente ricordare un dato, quanto sia più alta la dispersione scolastica nelle regioni meridionali rispetto alle regioni centro-settentrionali. Venendo veramente con un flash, mi scuso per, diciamo, la politicità al che fare, sempre per restare dentro un paragone con la prima guerra mondiale, innanzitutto io credo che sia necessario costruire una nuova Zimmerwald considerando, diciamo, come i partiti socialdemocratici europei e non solo purtroppo siano, diciamo, magna pars di questa scelta euro-atlantica e guerra fondaia, io credo che si tratti realmente di costruire un internazionale pacifista. Allo stesso tempo si tratta di aggiornare, diciamo, la critica meridionalista. Negli anni, diciamo, 90 dell'Ottocento si criticava giustamente un protezionismo che agevolava l'industria del nord e la grande proprietà terriera al sud. successivamente nei primi anni del novecento si criticava il Giolitti, ministro della malavita, nonostante leggi speciali sul meridione. Oggi noi dobbiamo avere la stessa, diciamo, profondità di pensiero nel criticare, appunto, non solo il progetto nefasto di autonomia differenziata, ma anche, diciamo, la regressione ecologica che vogliono far pagare, in particolare alle regioni meridionali, penso e chiudo veramente al progetto, diciamo, di raddoppio del gasdotto Tappo per fare soltanto un esempio o al progetto del nuovo inceneritore sul Roma. Secondo me noi abbiamo il compito di far partire da sud, finisco, finisco e sto finendo, di far partire da sud un'alternativa popolare che renda visibili le fratture di cui parlavo prima, che sappia allo stesso tempo intrecciare la questione meridionale con la questione pace, con la questione ambientale, con la frattura fra elite e popolo, diciamo, una rivoluzione posizionata politicamente a sud e chiudo su questo che renda visibile l'invisibile. Io ho imparato negli anni del mio mandato parlamentare a rileggere la questione meridionale attraverso la composizione della popolazione carceraria in cui gran parte, diciamo, delle persone detenute anche nei, diciamo, regimi di alta sicurezza e della popolazione carceraria comune è meridionale. E, diciamo, un'altra faccia della crime migration di cui ci parlava Angela Davis quando, appunto, nella sua riflessione intersezionale e abolizionista parlava della criminalizzazione e dell'incarcerazione delle persone di colore. Eh, credo che davvero il posizionamento a sud eh, ci consenta oggi uno sguardo intersezionale e una proposta di alternativa popolare e radicale. Grazie, Ele. C'è un applauso qua in sala...